Ciao bambini, buon lunedì a tutti! Allora, oggi voglio fare insieme a voi una cosa che sono certa vi piacerà. Andiamo! Allora, ci serve una tazza di farina, una tazza di acqua e un mezzo bicchiere di sale. Siete pronti? Iniziamo con la tazza di farina. Allora, mettiamo tutta la tazza di farina dentro ad una ciotola. Se avete un piano in legno, va bene anche quello. Poi prendiamo la tazza di acqua e la mettiamo dentro. Ok. Dopodiché prendiamo il sale. E anche questo mettiamo dentro. Adesso iniziamo ad impastare con le mani. Ecco qui la pasta di sale. Quando tutto risulterà ben amalgamato, gli ingredienti si sono amalgamati, avremmo ottenuto la nostra pasta di sale. E da qui, bimbi, inizia il vostro divertimento. Tutto quello che volete creare potete tranquillamente crearlo. Una stellina, un cuore, un animaletto, tutto quello che volete. Ok, bimbi? Buon divertimento!